La gestione fa acqua da tutte le parti, dimettetevi così, Pierezio Ghezzi ha attaccato pubblicamente i vertici della municipalizzata SM Voghera nel corso di una conferenza stampa congiunta con gli esponenti della lista più libera che raccoglie radicali più Europa e Volt. Secondo il candidato sindaco dell'area di centrosinistra, infatti, i continui disguidi nella fatturazione con la nota vicenda delle cosiddette bollette pazze e altre inefficienze sarebbero alla base di un drastico calo degli utili nel corso del 2018. È circa due anni e due anni e mezzo che i voghereri stanno assistendo ad una gestione assolutamente improponibile dell'azienda, a scontri furibondi tra amministratore unico e direttore generale, ad esposti doverosi alla Corte dei Conti, alla magistratura, a chili di documenti che la Guardia di Finanza e i Carabinieri hanno chiesto ed ottenuto dalle aziende per essere esaminati. È una situazione improponibile che sta, da una parte, facendo diminuire gli utili in maniera pesantissima. SM Vendita e Servizi ha perso il 60% dei propri utili e, dall'altra parte, sta fornendo ai vogheresi un servizio pessimo. La richiesta è una sola, primo, mandare a casa amministratore unico, direttore generale e consigli di amministrazione nominati dai politici e sostituirli con dei manager assolutamente capaci, competenti e distanti dalla politica. Aghezzi ha fatto eco Alessandro Traversa, esponente di più Europa. La Lega che fa finta, diciamo, di non essere in maggioranza, ma formalmente, ma perché formalmente, poi però vediamo che appoggia tutte le decisioni del centro-detta, anzi, nelle partecipate ha ancora peso e ha elementi vicini alla Lega che in ruoli di importanza. La Lega ci accusa di essere promotori della Plastic Tax per sviare l'attenzione su SM, naturalmente nessuno a Voghera ha messo la Plastic Tax.